Questo luogo importante, la riserva d'Annunziana, non è soltanto il verde pubblico della città, ma è anche un luogo di pregio, ma è anche un luogo che rappresenta l'identità di questa città e deve essere tutelato. Il cuore verde di Pescara è un cuore malato. Quello che si riesce ad osservare lasciando i sentieri principali e addentrandosi all'interno della riserva d'Annunziana è ben visibile da queste immagini che forse parlano più di mille parole. Preservativi, fazzoletti, cartacce, plastica, resti di cibo ed escrementi, capi d'abbigliamento abbandonati, alcove per incontri promiscui e poi loro, gli alberi. Sono centinaia i pini che mancano all'appello, falcidiati dal maltempo e dalla non curanza dell'uomo. Ieri pomeriggio il consigliere comunale di Pescara del Movimento 5 Stelle Enrica Sabatini ha voluto vedere con i suoi occhi quello che gli era stato raccontato a parole da Antonio Taraborrelli, uno dei residenti del quartiere sorto ai margini della Pineta e che da tempo si batte per una maggiore attenzione nei confronti della riserva. È stato proprio il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a presentare una interrogazione rivolta all'amministrazione Alessandrini per chiedere informazioni sullo stato di salute del parco e sulle azioni intraprese per curarlo. Le risposte sono state confrontate con la realtà che deve fare i conti, tra l'altro, con l'inciviltà di quanti sporcano e deturpano un luogo di assoluta bellezza come la Pineta D'Annunziana, creando anche problemi alla sicurezza pubblica e all'incolumità di quanti, sportivi e famiglie soprattutto, frequentano la riserva. Sì, effettivamente stiamo vedendo che ci sono, diciamo così, delle discrepanze rispetto a quello che ci è stato detto, a quello che stiamo guardando. Ci sono dei problemi seri e importanti. Porteremo infatti questo problema in commissione, non solo a una commissione in comune, ma anche alla regione, perché essendo una riserva naturale ha una competenza anche regionale, quindi attraverso i nostri consiglieri regionali porteremo questo problema anche più in alto del comune. Si deve intervenire assolutamente in questo spazio. È prioritario e importante proprio per tutte le problematiche di ordine e sicurezza che abbiamo già sottolineato.